Adesso l'unica cosa che si può fare è prendere la nostra direzione e aspettare Siamo nel viaggio, chiuso, siamo nel viaggio Adesso non ho più un posto dove dormire, sarà tutto completamente ignoto Sarei potuto partire con gli aerei, con gli autobus, con i treni Ma ho deciso di partire in autostom Ego, potrei andare in bicicletta Ma no, mai, molto gentilmente, mi ha dato i nomi delle città in cui andare Hola, benvenuti nella sala di montaggio Devo fare un attimo di chiarimenti Ero esattamente qui a Moonban Pet Peace o qualcosa E ce l'ho arrivato dalla Malesia tramite quest'isola qui, Langkawi Ok, da qui, come consigliato da Mai, mi ha consigliato di venire a Moonban, sì, l'orribile, questo E per arrivarci avevo bisogno di fare tutto questo percorso E sono esattamente 180 km di macchina E ci vogliono 3 ore, 3 ore, di macchina Se avete una vostra macchina Quello che ha fatto Mai è aiutarmi a prendere delle tappe intermedie Con il quale potevo fare l'autostop in maniera più semplice Per poi arrivare a fare questi 180 km e arrivare a destinazione Ritorniamo! Per esperienza, se bisogna fare un viaggio lungo Questa è la destinazione finale, consigliata da lui Dovrei incontrare un sacco di local, vediamo, vediamo com'è Però visto che è lontano, devo fare altre due tappe Ok, perfetto E molto gentilmente mi ha scritto Che perché scrivere è in Tadi, io scrivo Comunicare con le persone Tadi quando ti... Sì, è più semplice Grazie, Mai, sei il migliore Ho piaciuto, hai un buon viaggio Non ho mai visto qualcuno come te che ha bisogno di cercare questo Sì Allora siamo dei veterani Mai, grazie In questo momento ho due zaini, tre fogli di carta E tanta speranza, vediamo Quello è il confine della città Però prima andiamo a mangiare E queste simpatitissime signore Vediamo oggi cosa ci mangiamo Avevano capito che volevo mangiare, mi hanno dato la sedia Per stare qui con loro Allora Non ha tanto senso partire di fretta, al stomaco vuoto Meglio mangiarsi un po' di carne, di topo E un nuovo fritto con olio che viene usato da un anno Danno anche il cucchiaino Italia 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 Cocoon Crab Mangiato, abbeverato eppure andato in bagno Adesso comincia il viaggio Devo solo arrivare al confine della città Sono proprio curioso di vedere che cosa ci capita Se ci capita, cioè se si ferma qualcuno Che non è scontato Un pick up, una pecar, un motorino Cioè se tipo si ferma un pick upone della madonna Impazzisco Però anche se si ferma tipo un carrettino tutto scassato Invece la via di mezzo no O top in un senso o top nell'altro Sono ufficialmente fuori dalla città Adesso prima cosa che si può fare Prendere la nostra direzione E aspettare Questo signore mi ha detto che c'è la stazione di autobus se voglio Ma non è questo il nostro obiettivo Potenzialmente chiunque viene da lì potrebbe essere il nostro prode conducente Solo che essendo venerdì ed essendo orario dove tutti lavorano Non c'è così tanta affluenza di macchine Va bene, va bene, stiamo a vedere cosa succede Va bene, va bene, stanno succedendo cose Non ho capito ma sì, sono fermato di vedere O se non il motorino, sono qui a parlare Volevano rifilarmi un autobus Volevano rifilarmi un autobus No, basta Voglio andare in autostop Si parte Con un mezzo un po' inaspettato Però va bene Ok, ok Ready? Non era proprio quello che pensavamo Però va bene Cioè In realtà questo signore a quanto ho capito Non mi sta portando proprio nella città Ma in un posto migliore per fare l'autostop Siamo nel viaggio Siamo nel viaggio Poi vi spiego il motivo per il quale ho fatto questa cosa E non ho voluto prendere l'autobus Però in qualche modo già è percepibile Romano Napoli Oh, bravo Milano No, 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 Milano No, no Napoli Pizza Maradona 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 Oh Wait, wait Allora Italia Ok Questa è la strada che porta alla prima destinazione diretta Quindi funge da filtro Ed è fondamentale La prossima tappa è all'incirca 40 minuti di macchina Va bene Non ci resta che prendere il nostro foglio E aspettare e sperare Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Picapone Ehi Allora Ehi 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 Questo lo lasciamo qui Langù 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 Sui treni Fare tutte queste cose È estremamente infattibile Cioè Con qualche euro Ve la cavate Ed evitate tutto il suo sbattimento Stare sotto al sole Cambiare ogni volta passaggio eccetera Anche perché non è tanto Tra le corrette convenzionali Che facciate la post-op qui Però è bellissimo Perché entri veramente in contatto con le persone Tutto tranne che una questione economica Una questione di comodità Non lo va oltre Proprio per Entrare in contatto con le persone Veramente In macchina di un thailandese Che non parla a mezza parola d'inglese Ad ascoltare musica thailandese Che prezzo hanno queste esperienze Ok 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 Mi ha abbandonato Che faccio? Mi ha lasciato le chiave Potrei prendermi il pick-up E andarmene È ritornato Siamo dentro una fabbrica di Materiali d'ile Va bene Quanto ho capito Deve scaricare delle bombole d'ossigeno Ok Il mio zaino Sta lì Che cazzo No C'è il computer dentro Aspettiamo Dentro una fabbrica di materiali d'ile A scaricare ossigeno Chi l'avrebbe mai detto? Ok Si riparte Ci è andata bene Mi sta avvicinando sempre di più Alla seconda meta C'è la prima destinazione fatta La seconda destinazione però Sta a un'ora e mezza dalla prima E lui Fortunatamente Deve andare a una città Un po' più vicina E questo è un grande vantaggio Un grande vantaggio Trang Ok La prossima destinazione Comcun Crab Ciao Cri Ora Possiamo sostituire questo Con questo Sono passate due ore da quando sono partito Siamo quasi a metà strada È giusto dove sono Questa è la strada che porta dove devo andare Però il problema È che veramente Non passa quasi nessuno Quindi le probabilità Qualcuno si fermi adesso Sono molto basse Prang Prang